ciao amici di italia top games oggi giovedì 19 gennaio solito appuntamento con gli aggiornamenti pes 2017 come potete vedere dalla schermata ce ne sono varie di novità intanto c'è info codice autenticazione di pes league è una questione diciamo più che altro tecnica però un po importante la distribuzione del codice previsti in occasione della manutenzione le informazioni online verranno mostrato ogni utente dovranno essere confermati dagli stessi il codice d'identificazione unico e diverso per ogni utente e quindi bisogna tenerli a sicuro non rivelarle a nessuno poi leggiamo molto interessante lo amo già parlato il terzo evento della coppa challenge contro com sarà tenuto per festeggiare la uefa team of the year 2016 come ricompensa riceverai un agente speciale in grado di ottenere qualsiasi giocatore inserito in passato nella uefa team of the year non abbiamo il tempo di provare di completare tutta la challenge contro com è questa cosa interessante per capire se ci sono per dire nuove leggende ma noi non crediamo sia così ci saranno tutti i giocatori ancora in attività che hanno fatto parte l'uefa team of the year comunque se voi farete prima di noi a fare una challenge contro com di questo tipo lasciateci i commenti sul nostro canale youtube sul nostro sito italiana game su un to itto anche nel gruppo persi italia insomma vediamo di di condividere informazione è molto importante anche perché nel breve tempo non avrò modo di completare la challenge contro com bene allora andiamo a vedere tutto quello che riguarda mai club allora abbiamo detto che c'è questo nuovo agente african nation stars per festeggiare ovviamente la coppa d'africa che si sta tenendo in questi giorni andiamo subito a entrare in my club vedere un po i giocatori obiettivo di questo di questo agente sarà interessante vedere quanti giocatori ci sono che valutazione hanno e poi come abbiamo iniziato la settimana scorsa vi darò il mio voto per per questo aggiornamento settimanale scopriremo e poi voi potrete lasciare anche i vostri dei voti intanto qui abbiamo l'aggiornamento live dei giocatori in forma messi su ares tiago silva ibraimovic i guain che ha segnato domenica anche se la juve ha perso viene messo con un aggiornamento positivo mertens del napoli check del arsenal e tanti altri andiamo a scoprire qualcuno che scende a guerra del manchester city ha perso il manchester city pogba nel manchester united che nell'ultima giornata ha causato il rigore contro il manchester united nei confronti al liverpool marcelo del real madrid chiellini e la juventus bonuccia la juventus tutta la difesa della juve vediamo forse è una prima assoluta curzawa del paris saint germain e tanti tanti altri andiamo quindi a scoprire la gente african national stars il tempo di caricare come al solito ecco per 2018 ci auguriamo abbia tempi di caricamento più veloci eccolo allora abbiamo detto questo è il terzo periodo di periodo 19 gennaio 26 gennaio allora 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 andiamo subito a vedere la gente speciale eccolo qui allora elenco dei bersagli poi facciamo anche un giro per vedere come vanno le cose c'è gervinio che in pes 2016 o l'ho adorato sul mio 4 2 3 1 era un'ottima la aumama young conoscete benissimo salà della roma e nia ma e nia ma speriamo quello letto bene iaia toure benattiana della juventus zihek del marocco mare maes del del lei sta e calidu culi belli del napoli e dovremmo trovare tanti altri giocatori fra cui ecco gulam anche del napoli allora ci sono 171 giocatori che non sono proprio tantissimi certo non abbiamo i messi ibraimovic eccetera quindi il massimo che possiamo trovare un 86 171 giocatori non sono tantissimi se voi avete già un bel po di giocatori in rosa sicuramente se avete qualche obiettivo ben specifico potrebbe essere interessante comunque ci facciamo un giro di ruota e vediamo un po chi ci capita non mi dispiacerebbe culibali gervinio o anche gulam ma ci credo poco però non si sa mai vediamo un po ecco un bel pallone d'argento e che ci capita agiemang badu 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 dell'udinese va bene c78 accontentiamoci però facciamoci un altro giro di ruota dai vorrei tanto calidu culibali vediamo vediamo come va dopo non ho più gp per fare giri quindi questo è l'ultimo pallina d'oro eccola vediamo vediamo un po chissà che abbiamo preso fosse culibali eh sì calidu culibali bene bene oggi sono molto molto contento la maglia è già quella giusta quindi va molto bene allora questo era l'agente my club aggiungi a membri my club e andiamo a vedere la challenge contro com soliti tempi di caricamento la challenge contro com saranno sicura molto probabilmente quattro partite già da giocare ecco c'è l'ufa champions league ancora disponibile fino al 26 gennaio african cap tre partite pensavo quattro quindi va benissimo anche più rapido riceverai special agent dopo la tua prima vittoria sarei compensato con mille gp dalla seconda vittoria poi un classicissimo a volevo vedere anche se c'era la sfida dell'ufa team of the year per il momento non la vedo molto strana questa cosa forse i tempi devono ancora arriva un pochino dopo questa cosa qui ve la lascio in in stand by perché perché almeno qui tra le challenge contro com non c'è questa questa cosa però non mi ricordo bene gli orari l'ultima cosa che volevo vedere con voi my club è sistemato quello che dovevamo vedere lo abbiamo visto se erano arrivati e legge gli aggiornamenti delle rose perché gli amici di best team avevano ipotizzato che già da oggi ci dovevano essere gli aggiornamenti delle squadre allora e quindi proviamo a vedere ad esempio ecco aggiornamento live in corso vediamo se questo porta a allora vediamo campionato italiano vabbè questo le condizioni ok io volevo capire se in rosa mi trovavo ad esempio pavoletti il campionato italiano diamo ad esempio l'inter se c'è gagliardini allora vediamo un po schema di gioco pavoletti sì 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 sono state già aggiornate le rose quindi dato molto interessante nell'inter gagliardini invece non lo vediamo chissà se perché non è stato inserito perché è arrivata dopo la l'acquisto da parte dell'inter però pavoletti in rosa c'è andiamo a vedere ad esempio invece se nella juve c'è il rincon juve poi vediamo che ha fatto qualche acquisto vediamo c'è il pescara gilardino andiamo a vedere schema di gioco allora nella juve c'è il rincon eccolo qui gilardino non c'è significa che sono stati fatti alcuni cambi ma non tutti però ecco come dire rispetto agli altri anni quando gli aggiornamenti arrivavano sempre tardissimo dobbiamo dire che lo sforzo è apprezzabile quindi i primi cambi sono stati fatti non tutti non abbiamo modo adesso di vedere di vedere tutti i trasferimenti però come dire qualche qualche passettino in avanti è stato fatto vediamo se c'è i turbe nel torino e vediamo se ah vediamo se nell'empoli c'è ancora gilardino invece allora i turbe c'è nel torino e gilardino c'è nell'empoli no forse allora si tratta solo del fatto che bisogna andarlo a trovare io l'ho messo come squadra avversaria il pescare quindi non potevo vederlo eccoci troviamo i turbe quindi gli aggiornamenti sono sono arrivati sono arrivati e questo ci fa molto piacere e questa era era un'esibizione quindi un single player e quindi è stato tutto bellamente sistemato bene amici di Italia Top Games con questa notizia che ci fa molto piacere perché come dire fa piacere che Konami abbia velocizzato molto molto i tempi di aggiornamento delle rose vi ringraziamo dell'attenzione ci dispiace la questione dell'UEFA Team of the Year di non averla potuta sviscerare c'è questo piccolo c'è questa questione che non abbiamo potuto vedere per il resto avete visto tutto grazie dell'attenzione vi aspettiamo sul canale youtube Italia Top Games vi aspettiamo sul nostro sito www.italiatopgames.it ciao ciao